buona estate buona e anche il pompon qui mi lascio un naso allora oggi vi vediamo gli grediti opti nataletti nataletti si questo pompon va bene vediamo che indietro eccoci va bene gli grediti opti allora incommentiamo grande avete capito però siete forti voi e metto gli occhiali perché non ci vedo e devo vedere da vicino e vedo devo vedere che fantastiche persone che siete perché siete forti e io l'ho detto e siamo vestiti natalizi perché la prossima settimana è natale e avete comprato i regali e allora ci sentiremo poi per gli auguri è forte sta cosa è bello e vi saluto oggi l'acqua non c'è perché non abbiamo perché ho bevuto la cioccolata calda prima era forte quella perché era buona era calda era forte allegria amici ascoltatori e allora oggi natale natalizie però poi natale e allora e cosa scelete regalo 1 2 3 4 non si sa non si sa amici ascoltatori e allora chi lo sa e allora io vi saluto e vedremo i regali che ci saranno cosa avremo ricevuto per natale bene non ne ho perduto se non ne ho perduto una volta lezze scus scus custanze maurice guarda chi è che c'è ci sono un fuleto veramente che poi ho il palo guarda che bello guarda che bello questa veramente meravigliosa che ci sono un uno veramente veramente che sono lui e io vi saluto perché ci sono d'andare a mangiare un il torrone, il torrone, il zucchero filato veramente, io vi saluto, ciao ciao mamma mia come sto e chiede, Natalizio, vuoi portare dei regali, mamma mia come sto, vi saluto che devo portare dei regali quindi portiamo qui che c'è, tu, 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 mi ha messo il cappello del babbo natale, mamma mia che roba, tu, tu, vedi come sto, sto bene, mazza quindi io un attimino scusate facciamo che c'è che c'è porterò i regali oh bello io vorrei scartare veramente un regalo anche piccolo ma veramente ma veramente fatto col cuore bellissimo il Natale io vi saluto e ci sentiremo per gli auguri ciao bene allora io anche io vi saluto e vi vediamo alla prossima puntata natalizia per gli auguri ti sentiremo per gli auguri ciao alla prossima